benvenuti alla visione di raccontaci di te questa è la sesta puntata della terza stagione oggi abbiamo qui con noi un carissimo amico e sono veramente molto felice che è qui con noi emanuele alotta ciao emanuele benvenuto ciao ragazzi felice io guarda per me è tanto dire stare con voi oggi perché qui sono passati dall'altro tante persone che sono anche amici miei ma grandi artisti io non mi reputo alla stessa allo stesso livello devo dire perché poi ti racconto per quanto per quello che mi riguarda però per me è veramente un grandire perché se arriva fino a questo punto devo dire grazie all'amico goldrick di cui fra poco parleremo poi ne parliamo sono contento perché è anche un rivederci fisicamente dopo tanti e tanti mesi di rapportarci via web e soprattutto comunque devo dire che la tua grande famiglia allargato ovvero già a fine web ha fatto tanto soprattutto in quei momenti in cui durante il lockdown eravamo proprio segati dentro in questa specie di carcere forzato per dire nazionale per questo mi sono tanto affezionato ancora di più di quanto già non ci eravamo affezionati e rapportati degli anni precedenti sicuramente è stato la cittadina sulla torta a palermo quando poi per motivi due familiari ci siamo incontrati fisicamente però devo dire che a livello epidemico ho palpato proprio questo affetto comune che abbiamo e che condividiamo momento in momento in meno felice la nostra vita proprio in quel frangente di l'anno scorso in pieno lockdown quindi ancora di più sono emozionato e sono contento di stare con voi oggi ti ringrazio mi fa piacere il tuo grandissimo entusiasmo ma guarda io faccio veramente nel mio piccolo quello che posso anche perché insomma appunto in 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 lockdown insomma in tempo di covid cerchiamo veramente ecco di essere vicini nell'unico modo possibile per fortuna ecco la tecnologia ci viene incontro perché grazie a queste video chat riusciamo a raccontarci e a raccontare delle belle storie com'è la tua che adesso poi andremo per l'appunto a raccontare allora in attesa del nostro actarus prime francesco gimiani che mi auguro insomma entrerà quanto prima in video chat ti saluto il mio fratello dottor saudome fabio avanzo ciao fabio ciao emanuele ciao don franco buona giornata buona giornata grazie fabio sempre per essere qui con noi il mio mai consueto compagno di viaggio poi permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio veramente con tanto affetto al nostro davide baldo che oggi non è qui con noi per motivi familiari quindi mandiamo veramente con molto molto affetto un abbraccio a davide a lui e a tutta la sua famiglia davide capirà capirà davide vai davide vai grande davide sarà con noi sicuramente nelle prossime occasioni allora come dicevo in attesa che francesco entrerà anche perché francesco come al solito ci aiuterà ci supporterà non solo nel nella chiacchierata ma soprattutto con dei dei come dico contributi visivi no perché sono alcuni sono veramente delle delle autentiche chicche in esclusiva in questa chiacchierata emanuele già sa di che cosa parlo è una piccola sorpresa allora carissima emanuele noi ci conosciamo in realtà non da tantissimo perché grazie ai social ci siamo abbiamo preso contatto tramite amici comuni nel 2018 però poi ci siamo incontrati e questo mi fa veramente piacere l'hai già accennato ci siamo incontrati fisicamente nella tua città natale ovvero palermo che poi tra l'altro è anche la città di mia moglie rita palermitana doc pure lei quindi nel 2019 siamo scesi giù in sicilia per una vacanza meravigliosa bellissima ed è stata meravigliosa e bellissima grazie anche a te emanuele che quando ci siamo incontrati dove mi hai fatto assaggiare penso il mio se il mio cannolo siciliano della vita veramente senza nulla togliere agli altri agli altri perché solo la rivalità fra città siciliane no c'è grande rivalità tra le arancine i cannoli eccetera però non vogliatemene ma io grazie a manuele ho mangiato il cannolo più buono della mia vita e detto questo in quell'occasione mi facesti dono di questo meraviglioso book un pocket perché è in formato pocket di quest'opera della quale appunto parleremo ma non di questa in particolare anche se però questa ti ha dato grandissima visibilità perché mi ricordo e questa ti ha dato l'opportunità di farti conoscere un po in tutta italia perché appunto sei stato intervistato da radio animati si è stato intervistato da pianeta b web radio insomma hai avuto tanta tanta visibilità e tanto successo perché questo come spetta scusate la mia pronuncia pessima forti anniversari ufo robò goldre che sono detto bene grazie a questa opera tua ti ha conosciuto un po tutta italia raccontaci un po come andata come andò insomma ecco devo dire che devo fare un piccolo passo indietro nel tempo perché io ho amato sempre goldre che ma di fatto come penso tutti i vari nostalgici poi a un certo punto a un certo punto della propria vita a secondo poi che strada si percorre si sceglie di mettere magari una linea immaginaria diciamo di separare tra la vita del fanciullino per poter iniziare a fare tra virgolette l'adulto come magari si configura si stereotipa nella propria mente nel proprio cassetto immaginario ma di fatto non è così perché grazie infatti a questo piccolo ancora barlume di infanzia che mi è rimasto dentro mi ha aiutato a superare momenti non tanto facili nella mia vita che non sto a raccontare perché non mi voglio far annoiare ma di fatto mi ha aiutato a fare un po da autoterapia il mondo del fumetto il mondo del disegno il mondo del cartonimato per inventare una graphic novel introspettiva e sottoscritto che guarda caso ce l'ho qua accanto un po perché voglio far vedere un tanto l'opera in sé perché magari non stiamo parlando oggi di quest'opera pensi di qualcosa di più importante ma più che altro perché gli stilomi sono prettamente gonagaiani perché questo perché io ho voluto cercare un po di scimmiottare lo stile anni 80 90 quindi a cavallo tra gonagai anche Kenny Guerriero Dragon Ball che parlava fortissimo in quel periodo del 2001 ricordo bene sì che e quindi mi ha dato la possibilità di creare un fumetto ancora non avevo fatto la scuola del fumetto però con la mia passione e scimmiottando appunto di questi stilomi avevo tra l'altro qualche volume anche di loro il piatto Kenny Guerriero Goldreck Getta Robo eccetera nel realizzare appunto questa graphic novel che conta appunto cinque tomi e l'ultimo esattamente è un citare la nascita di mio figlio quindi poi finisce comunque bene in tutto questo però questa scia mi è piaciuta mi è andato bene perché comunque non mi aspettavo parliamo sempre siamo sempre la furor di polpo tutto si è mostrato nella mia vita furor di polpo non tramite web questo è nato dopo questa diciamo un appendice che ha supportato la mia realtà ma di fatto tutto è nato prima del mondo Facebook prima del mondo web più massimizzato come adesso grazie appunto ripeto a questa realtà capì che alla fin fine il fanciullino non bisogna mai relegarlo bisogna essere se stessi a prescindere possa piacere o non piacere volento o volente perché comunque l'essere te stessi poi veramente emergi anche in situazioni che magari ti immagini impossibili perché sei veramente te stesso non stai scopiazzando uno stereotipo di qualcosa che devi piacere agli altri ma di fatto non calza veramente chi sei tu e infatti grazie a questo poi l'ho applicato in tante altre realtà della mia vita non soltanto nel mondo dell'arte ma anche nel rapportarmi col mondo intero quindi devo dire che questo diciamo nuova stagione, nuova primavera della mia vita a trett'anni suonati e passa mi catapulto veramente nel mondo della non arte iniziando appunto a finalmente frequentare la scuola del fumetto di Palermo di quali saluto se mi sentono e lì insomma applicai finalmente i veri stilomi le vere tecniche per poter fare breccia in quello che volevo finalmente io fare cioè raccontare quello che dentro di me sento non soltanto quindi più la mia vita ma anche quello che attorno a me mi rappresenta come città come vicissitudini diciamo che posso anche poi estrapolare e raccontare l'inversione metafore fumettisticamente parlando eccetera eccetera questo appunto poi porta a raccontare tutto un percorso in miglio di fumetti che raccontano la mia città che parte da padre Pino Puglisi commissionato dall'arcivescovo di Palermo stessa cosa poi con Santa Rosalia con tanto di lette di presentazione dell'arcivescovo e del sindaco di Palermo che è diventato di fatto il fumetto ufficiale del santuario dopodiché Stupormundi che sarebbe la storia a fumetti del tutto ciò che diciamo in mezzogiorno invidia Palermo Cefalù e Monreale ovvero il triangolare arabo normanno i rispettivi diciamo così siti monumentali chiesa nonché anche parte diciamo così del Duomo che viene però e fa da cornice con tutto ciò che riguarda l'esodo dei normanni nel mezzogiorno quindi da Ruggero II fino ad arrivare a Federico II lo Stupormundi per eccellenza non di meno infatti poi verrà chiamato Stupormundi questo volume che lo metto qua che è un'opera anche questa è un'opera che tu mi facessi dono insieme insieme a questa mi decalasti una copia di Stupormundi che è un'opera bellissima no ma ecco ovviamente che ti volevo poi volevo quindi arriva a Goldi che si arriva perché poi nel 2018 quando già mi ero canalizzato nel mondo professionale del fumetto ovviamente non parliamo nazionale ma almeno a Palermo grazie a questi anche incontri che saluto ovvero la Ciprescovato di Palermo la Fulzia Municipale che mi commissionò a suo tempo Padre Puglisi eccetera eccetera mi ha portato a farmi breccia nel mondo professionale almeno qua inter nostro locale che succede nel frattempo? Siamo nel 2018 il mondo nerd trepitava che stavano arrivati a 40 esatti netti di Goldrake e tutto il mondo già sarebbe mobilizzato di conseguenza chi aveva fatto delle pin-up, chi aveva fatto nuovi libri e che faccio? se io voglio qualcosa devo farla ma siamo proprio a tempo zero ecco subito la mia voglia è tanta di poter subito fare un po' la scarpetta tutto ciò che potete trovare nel web per crearmi la storia la storia nessuno ancora l'ha fatta la conosciamo tutti benissimo attraverso YouTube attraverso tanti diciamo rubriche che hanno raccontato di lui ma di fatto ancora nessuno si è permesso anche perché era un po' ingarbugliata la scenogitura per fare un qualcosa di lineare che è soprattutto a tempo zero ma che possa calzare con il prima dopo il seguente allora ho detto facciamo una cosa perché non raccontiamo anziché proprio Goldrake l'evento mediatico di noi che ha portato ancora a contemplarlo a raccontarlo a enfatizzarlo fino a 40 anni suonati di età allora ho detto facciamo una cosa innanzitutto cerchiamo di capire perché Goldrake è nato dove nasce le origini quindi del fumetto manga le origini quindi del pensiero manga che poi è preparato anche nel mondo occidentale il filtro che poi però si è resa all'evidenza che incontrò nel mondo europeo quindi Francia, Italia e poi tutto l'esploi ovviamente mediatico i costumi eccetera che abbiamo fatto come archetipo e ancora diciamo ne parliamo tuttora tutto questo ho cercato di riassumere ovviamente al modo di fumetto non dal caso citando anche il formato in versione tascabile e si applicava anche una pressione più grande cosa che ahimè diciamo per motivi di non coerenza tra l'ideale e poi in pratico il mondo dei narri non si è potuto fare che finalmente invece si sta facendo a tre anni suonati perché tutto si è mosso a fuori di popolo e qua concludo e a fuori di popolo se pensate di fare questo omaggio all'utenza veramente che abbiamo fatto vibrare le corde a queste persone che su scala nazionale ha percepito da dove tutto parte senza fossilizzarsi nemmeno sul che so magari c'è la didascalia un po' che non si vede la parte perché tutto comunque ripeto nasceva per un formato più grande però l'amore è andato ben oltre che un po' ha offuscato questa parte tecnica per dire ma è bellissimo condividere anche su un supporto cartaceo quello che noi abbiamo tutti pensato infatti questa è come una grande famiglia allargata che ci siamo ritrovati contemplando appunto quello che bene o male tutti ci siamo un po' rivisti tipo il bambino che si va a comprarsi i cevi gum quello della Elac e poi ti ritrovi il posto di Goldrick la mamma che ti dice ancora questo stai a dire mamma vieni a guardare e poi la mamma dice ma infatti questi colizzi che noi ci sono interessanti oppure c'era magari il papà più burbro ma che c'entra questo aspetta che andiamo a parlare a fare l'interpellanza parlamentare perché non va bene c'è tutto un insieme di non-sense anche in non-sense per esempio dei primi movie di Goldrick che non c'entrava niente con poi la parte poi finalmente sistemata a punto di vista anche della coerente traduzione di quello che dicevamo tutto questo comunque ha dato un suo fascino che abbiamo poi rimprescato un po' mi sento ancora io l'odore proprio il profumo delle cevi gum per dire quando io ricalco appunto quelle pagine che sicuramente ci siamo ritrovati tutti quanti under 40 e 50 anni certo certo Emanuele sei stato un fiume in piena hai dato tantissimi spunti di dibattito insomma allora ricordiamolo che Emanuele Lotta è illustratore sceneggiatore scrittore e anche scultore perché vedete quelle opere che lui ha davanti e quella è la fatta lui quindi veramente è un artista a tutto il mondo a 360 gradi allora caro Emanuele praticamente quello che hai già del resto appena detto in questa prima edizione che poi è anche quella che ovviamente la rivedremo pari pari nell'edizione deluxe in questa edizione non si limita soltanto al racconto di Goldrick in sé ma racconta ad ampio raggio ad ampio respiro quello che era la tua illustrazione racconta uno spaccato di quel periodo di vita ovvero il 78 ma anche tutto intorno l'anno 78 quindi si vedono immagini e racconti dell'Italia di quel momento quindi si vedono spunti politici spunti di cronaca e la televisione naturalmente perché poi è grazie alla televisione che Goldrick è entrato nelle nostre case e nella nostra vita quindi tu hai dato veramente come dire hai messo su carta tutto ciò che noi abbiamo vissuto o abbiamo sentito raccontare magari i più giovani insomma la mia generazione quella storia l'ha vissuta la storia di Goldrick in Italia quindi veramente è un'opera straordinaria infatti non a caso non a caso ha avuto grandissimo successo al punto tale che e qui arriviamo al punto al nocciolo il successo è stato tale che ti ha spinto a creare questa edizione deluxe che la vedremo quando Emanuele quando la vedremo insomma se i numeri ci rispondono perché ovviamente stiamo facendo ora delle copie ridotte chiamate copie esca normale copie da luce come si dice luce per la lode per cercare un po' di trainare di nuovo l'ondata mediatica se tutto va bene dopo Pasqua si comincia veramente a sfornare il grosso e il quantitativo per il momento stiamo cercando di scherzando di fondere la leta novella che è tornata di nuovo dopo tre anni affinché appunto vediamo l'audience si risponde altrettanto capisco che ora siamo tutti frustati signori miei tutti abbiamo purtroppo cose molto più grosse per quanto vogliamo bene lo gioco oltre abbiamo molte cose più grosse c'è gente che non ti lavora più abbiamo la pandemia che ancora non se ne vuole andare però in tutto questo come ho detto anche in altre trasmissioni precedentemente ma che giorno fa dobbiamo considerare che appunto deve essere quel fanciullino che non devo mai abbandonare che ci possa veramente spronare e rendere frizzanti anche lo scontato il banale il quotidiano perché grazie appunto a questo zuccherino che adottisce la pisola sicuramente queste cose li vivranno in modo più ottimista e quindi anche questo può essere anche un vademegum per poter cercare di aggrapparci in cose molto più tra virgolette futi ma di fatto futi non è perché come dicevo poc'anzi qua siamo in un racconto del racconto siamo tra l'isola di Bitterpan che noi vivevamo fino alle 5 del pomeriggio in attesa veniva il papà che tornava ai tempi al lavoro la mamma casalinga ripeto stile anni 70-80 ma nel frattempo avevamo fuori le bombe atomiche le scuse le bombe atomiche ma tipo lo scongiurare le bombe atomiche ovvero la guerra fredda le bombe purtroppo direi a mitare delle contestazioni giovanili qua a Palermo avevamo poi lotti di mafia non lo sappiamo benissimo l'EBR il sequestro Moro eccetera eccetera quindi tutto questo però noi lo percevamo in senso lato perché avevamo per fortuna la mamma tv il tubo catodico ci faceva compagnia in quella fascia oraria quindi ci veniva a mancare da un lato lo compensavamo in quest'altra maniera quindi questo diciamo deve essere lo trovo anche per questo nuovo progetto che sta nascendo come una seconda Pasqua lo direi la Pasqua nella Pasqua nulla a caso quest'anno cade a pennello infatti il 4 aprile è proprio la Pasqua cristiana ma possiamo anche vivere come una resurrezione di noi tutti cercando appunto di abbracciarci in quello che veramente noi non dobbiamo mai fare scemare il nostro piccolo per cercare di andare avanti nel futuro certo perché ricordiamo agli amici che guarda caso quest'anno la fatidica data del 4 aprile del 1978 quest'anno nel 2021 casca proprio il giorno di Pasqua quindi perfetto direi e se ci pensate 43 anni ragazzi 43 anni fa Adra Sufrobo entrò nelle nostre case quindi veramente una vita intera una vita intera che ci sta accompagnando e siamo ancora qui a raccontare questa storia perché veramente questo è proprio a certificare che importanza ha avuto e ha tuttora Adra Sufrobo veramente un'opera un'opera importante dove appunto anche tu Emanuele Allotta insieme ad altri autori avete contribuito a dare ai posteri avete regalato ai posteri quello spaccato di vita che dicevo prima insomma avete reso in immagini nel tuo caso quel momento dell'Italia insomma ecco l'hai raccontato parliamo degli anni 70 Goldrick nel 78 quindi era la fine anni 70 ma erano anni furono anni molto difficili perché erano i cosiddetti anni di piombo anni veramente complicati noi eravamo bambini piccoli eravamo un po' fuori da questa non eravamo consapevoli di quello che ci succedeva fuori dalla porta di casa però questo era insomma il tuo libro illustrato racconta proprio quello che accadeva oltre Goldrick diciamo così quindi veramente un'opera straordinaria quindi veramente amici che ci state vedendo dovete assolutamente avere perché vi completa la vostra collezione nerd no no Emanuele sì ma tra l'altro comunque Goldrick un po' è anche figlio di queste realtà li metabolizzava li filtrava li faceva sue in chiave anime nel senso che la paura appunto della guerra fredda poi anche la paura anche verso il diverso viene concretamente si materializza con l'alieno Actarus o Hugh Fleet che ovviamente si faceva baluardo di noi umani contro un altro alieno che voleva conquistare la terra punto uno punto due anche tutti gli stilomi del far west dei film alla Sergio Leone tutto questo che noi vivevamo in senso positivo almeno questo in quei tempi in quegli anni vengono poi sempre filtrati dalla cultura giapponese perché non ci dimentichiamo che dopo la guerra pacifico il giappone scimmiotava molto lo stile occidentale dai blue jeans alla Coca-Cola e anche i cartoni animati disneyani e soprattutto marvelliani della DC Comics ovvero i vari personaggi mantello e calzamaglia che vengono poi riproposti in versione calzamaglia molto stilizzato molto aderente con lo stile di Gold che in Actarus che in senso lato somiglia un po' possiamo dire a Spider-Man anche se certamente Spider-Man è un'altra storia quindi insomma questo discorso chiaramente fa capire come poi il mondo è una grande famiglia cercando appunto sempre di capire come ogni cosa che può sembrare magari diverso può essere invece un complementare per poter essere ancora più forti tutti insieme non avere paura appunto del diverso anche questo concetto trappera ampiamente prima nel manga e poi nel cartonimato di Goldrich certo certo allora vediamo se ci riesco io a fare le veci del nostro Francesco Gimignani non so se lo vedete ecco se vedete questa immagine non so se la vedete si vede ecco questa qui questa è l'occasione in cui ci siamo visti nel 2019 e questo è il famoso cannolo che dicevo prima qui dove stavamo ricordami una banca vera quella che non un cannolo eh sì sì guardavamo noi in corso per la tettina in bassa esattamente il fantastico tra l'altro io dico mi permetto di citare la tua onorevole precedente realtà come militare carabiniere salutiamo l'arma che è vicino alla caserma dei carabini ungaro dove appunto c'è attraverso questa fantastica pasticceria dove tutte le forze dell'ordine vanno sempre là quindi andiamo su sicuro roba freschissima buonissima quando devo dire prendo il dolce è proprio quella con la D maiuscola non parliamo un cannolo è il cannolo perché tu mi riguarda nella zona mia tanto di veramente non possiamo fare esattamente veramente una cosa una cosa eccezionale veramente guarda da rifare assolutamente assolutamente ti aspetto certo certo allora Emanuele per quanto riguarda sempre la tua la tua prima edizione del tuo libro illustrato ricordiamolo è edito da Pitti Edizioni citiamolo perché ha creduto nel tuo progetto no? Sì li saluto innanzitutto per chi vuole già prenotare la nuova edizione basta rivolgersi all'email pitti edizioni chioccialibro.it o direttamente via messenger al mio profilo Emanuele la lotta o Pitti Edizioni questo come dicevo poc'anzi stiamo cercando un po' di nuovo di fare pubblicità ovviamente per risvegliare ovviamente dal torpore chi si immagina che l'avventura di 24 Anniversario Goldrake è finito tre anni fa ma appunto grazie all'audience che non ci aspettavamo grazie al furo di popolo stiamo premiando di conseguenza con la tanta auspicata tanto auspicato formato grande Deluxe che vuole dare anche giustizia a quelle magari pecchie didascali che non volute che ahimè visto che già sarebbe preventivato per un formato più grande sono state appunto un po' offuscate quindi stavolta si capirà bene anche la parte un po' più microscopica che saluto i vari blogger che mi avevano un po' così diciamo bacchettato per tre vali il carissimo Imago Recensio scusami se la prima volta questa cosa non ti andrà da giù stavolta cercherò anche di rispondere appuntino in tal senso quindi poi comunque voglio salvare anche altri carissimi amici come per esempio Sergio Algorzino che lui direttamente non ha collaborato al progetto ma lui ha fatto tante storie sul Golder che io giustamente ho rubacchiato sul web e chi meglio di lui non poteva andare a scovare le sue chicche e l'ho fatta anche mia poi altri grandi altri grandi web che non mi ricordo durante le bugie ho sondato un po' qua un po' là poi assolutamente starò fantastico quel documentario su YouTube dove c'è ora questo gruppo che sta facendo di nuovo ora in versione 3D film Goldrick Grandice The UFO che dopo ha raccontato tutto un percorso nel frattempo c'erano quegli spezzoli della guerra fredda che faceva appunto da contrabilanciamento al percorso romantico artistico e loro hanno maturato nel tempo questo per me era la sceliciatura già pronta e fatta prendendo anche ovviamente spunto da alcuni web sempre storie sulla YouTube della Toy Animation dai bianchi e nero fino a giorni d'oggi ho fatto poi giustamente un bricolage dando un filo conduttore sensato di sceneggiatura e poi da lì sono partiti i disegni certo certo allora a proposito di questa nuova edizione andiamoci a vedere vediamo se riesco a condividerlo io non sono bravo come il nostro Francesco ecco qua spero che si veda è questa giusta Emanuele questa è la nuova edizione no? sì sì è formata 4 posso c'ho tolto qua accanto ecco aspetta adesso tolgo la condivisione vediamo dal vivo allora ecco qua aspetta che tolgo tolgo la condivisione eccoci qua eccoci qua vai pure Emanuele ecco guarda si vede sì sì guardate che meraviglia eh sì e beh certo un'altra cosa un'altra cosa la marcia la marcia su Imo infatti poi qua c'è una spezzone di Goldrick contro Mazzini che insomma eh signori la come ho messo in uno slogan eh nuovo volto ma vecchio storia d'amore che non tramonta mai quindi a proposito a proposito Emanuele la tua vena artistica quindi cominciando dal disegno quando è che hai capito quando è che hai iniziato a disegnare hai capito di avere talento lo troppo buono per il talento no no ce l'hai allora io sei d'accordo Fabio ce l'hai beh magari avessero fatto lui un'opera così eh già è vero che dicevi Emanuele troppo buoni io ho sempre disegnato fin da piccolino sai quando scimmiottavo giustamente io sono cresciuto a Panemazinga non sono cresciuto con i film in bianche e nero né tantomeno con i fumetti alla Tex Will il contratto di rispetto perché ora quest'anno tempo mi rendo conto che loro sono stati appunto diciamo poc'anzi e anche gli stilomi su cui poi il Giappone si è diciamo ispirato a suo tempo però di fatto il mio compagno di vita essendo Goldrick lo perpetuavo già dai quaderni dell'asilo fino a non finire e ancora oggi quando mi voglio rilassare non ti disegno che so Topolino io ti dico sempre una pantomina diciamo abbozzata con le corne che rispecchia Goldrick quindi non ci scappa assolutamente però ti dico la verità poi diventando più grande la mia vera anatomia il vero mio studio del corpo umano l'ho fatto con le encicopedie perché io amavo molto anche spulciare i vecchi classici per esempio le statue degli antichi greci gli antichi romani e questo insomma è stato poi questo miscuglio che poi mi ha portato a concretizzare che volevo imparare veramente quest'arte prima appunto in generale l'arte in generale a tutto campo grafiche e poi mi sono concentrato proprio sulla non arte perché è secondo me quello che più vicino somiglia a cartone di manto nel raccontare attraverso dei dinamismi di immagini tra l'altro mi raccontavano i vecchi professori della scuola il fumetto che saluto fare un fumetto è importante perché devi avere tu delle bassi concomitanti di sceneggiatura scenografia di costume e di senso anche artistico no di senso anche del del raccontare senza far annoiare quindi tenere sempre un dinamismo un dinamismo diciamo ok non essere indondante anche nel racconto della grafica questo è fondamentale tutto un percorso appunto di sceneggiatura che abbiamo fatto in tre anni quindi questo per me era fondamentale poi ripeto come te l'ho detto poc'anzi ho iniziato appunto a livello amatoriale per potermi poi cimentarmi serialmente grazie anche a quell'incrocio di coincidenze inaspettate che la vita ti ha portato sia a livello istituzionale che anche a livello del mondo nerd certo certo ma tu riesci comunque veramente a sintetizzare in un'unica persona quindi in te stesso illustratore sceneggiatore quindi tu scrivi i testi e disegni quello che scrivi cioè riesci a conciliare a unire due cose apparentemente insomma ormai ognuno ha il proprio ruolo chi è illustratore chi è scrittore chi è sceneggiatore tu come riesci a fare tutto insieme? io da piccolino oltre al ripaldino del disegno era quello anche di inventarmi le storie ecco devo dire che più calza però la figura del fumettista d'autore anziché del fumettista quello che lavora su commissione Marvel ecco ti interroppo Emanuele ecco buonasera ciao buonasera grande francese ciao ragazzi scusate ma ho un problema di connessione non so neanche quanto mi riesce a durare sinceramente ciao Emanuele innanzitutto ciao grazie di essere con noi grazie francesco no allora diamo il benvenuto al nostro Mazinga Z da Actarus Prime Francesco Gimignali ciao francesco ciao ragazzi ciao a tutti insomma oggi continuo io dai oggi ci provo io faccio le tue veci non facili non facili quindi ci provo io ascolta io non so se avete già fatto la domanda Emanuele ma io ne approfitto prima che riprende scusami Emanuele io vedo un Actarus bellissimo davanti a te è un jig alla tua destra ok ma queste sono power model o sono sculture fatte in argilla fatte con duster queste sono gli effetti conseguenziali della pandemia dice che mi faccia aspetta che faccio un go oltre il cammino comprenenti comunque perché hai corto nel vivo perché gli spiego tutto è partito tra virgolette per giustificare questa mia diciamo così ripiego affettivo per cercare appunto di adorcire la pillola di questa esteticità che ancora non vuole finire completamente nel realizzare dei manufatti per mio figlio ma un po' oggi un po' domani la cosa cominciava a piacermi seriamente ma sai che quasi quasi me lo faccio anche per me stesso un personaggio perché in tutto è partito a fare beniamini per mio figlio la serie peppa pig i super pigiami eccetera e poi siamo alla fine a gold chi sa perché quindi tutto un motivo un motivo cercare appunto di addorcire la pillola come potete attraverso dei rifugi affettivi che sicuramente non possono non possiamo dire che non lo sono appunto il mondo di Conagai quindi io ho cercato un po' piano piano prima tra l'altro simpaticamente tra l'altro saluto con Rosario Buongiorno facevamo le gare a chi Rosario come no grande Rosario Buongiorno ciao Rosario ciao Rosario lui appunto ha la grande passione con la creta fa cose meravigliose mi posta proprio avvicinare solo col binocolo all'apoteosi su artistica grande artista però lui mi spronava anche mi spronava molto psorogicamente mi faceva i complimenti su quello su quella ma è schifezza che facevi in principio però mi dava la carica per continuare e lui faceva capire che questa era la giusta chiave di volta per poter adorcire situazioni surreali che forzatamente abbiamo vissuto ogni famiglia in un modo in un altro in questi mesi quindi tutto parte da là per questo poi mi sono messo a fare anche queste elaborate e mi sono rimasti come ricordo spero che non ti non siano solo un cimeglio un qualcosa di triste ma che incarnano poi nel vivo anche un qualcosa che è passato e anche diciamo magari un totem del futuro per dire non bisogna mai arrendersi vedi questo ti ricorda che hai passato anche questo ma ora li puoi contemplare in una realtà diversa che ti ci sono comunque sei riuscito a convertire quello che è una passione in un lavoro ed è una grande cosa perché alla fine ognuno di noi ha il proprio lavoro non tutti amano però il proprio lavoro ma quando fai una cosa che ti piace fare ti posso dire che non è che vai cioè che la mattina ti svegli e dici oggi devo lavorare ma è quasi un divertimento quindi già ti fa tanto veramente onore questo perché penso che sia nei sogni di tutti trasformare quella che è una passione in un lavoro quindi ragazzi io questo voglio voglio sminuire cioè non voglio sminuire il tuo pensiero che per me pienamente concordo con te e ti ringrazio per le tue belle parole però voglio spezzare una lancia anche per me stesso e anche per chi fa parte di la cerchia dei disegnatori d'autore io faccio più cosa assieme non faccio solo il disegnatore specie in questo periodo è pensato che è impossibile campare con l'arte a meno che era una cosa tipo lavori alla Marvel lavori alla DC lavori alla Panini e io per il momento ho dovuto rinventarmi in tutto ciò che dicevo pure amichevolmente parlando in confidenza a Giaffi ho fatto prima di portarmi al mondo del fumetto ovvero il mondo anche sanitario l'assistenza domicili agli enziani tutto ciò che mi ha portato però a maturare anche una consapevolezza che alla fin fine l'uno non trascendeva dall'altro anzi può essere anche un occhio diverso più sensibile in quello che poi puoi raccontare al traverso d'arte grafica certo 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 allora caro caro Emanuele io direi di farti quest'altra quest'altra domanda sempre sempre riferita alla prima edizione faccio rivedere del 2018 questa ti tede l'opportunità di interagire con dei personaggi illustri una in particolare ce la racconti? sì Maria Giovanna Ermi che è la nostra cava saluto sicuramente lei salutiamola in tutte le manie arriverà sicuramente perché lei ecco è una fatina di nome di fatto nel senso che non soltanto noi abbiamo incarnato proprio nella nostra forma mentis nel nostro immaginario quella fanciullina carina biondina che è anche un po' impacciatina i primi i primi giorni quando presentava Goldrick che nemmeno forse sapeva bene di che si trattava perché giustamente il mondo Rai era giustamente con questo nuovo approccio di realtà di cartone animato ma di fatto lo è anche proprio mantenuto questa sua fanciullessa questa sua freschezza questa sua apertura mentale a tutto campo anche nel rapportarsi con uno sconosciuto come me fino a qualche anno fa non sono ancora sconosciuto per il mondo intero poi dico nei suoi riguardi lei non mi conosceva e lei disponibilissima mi ha dato la possibilità di aprirsi a suo mondo cioè aprirmi io a suo mondo e lei viceversa rapportarci confidenzialmente prima via messenger e poi via whatsapp tutto è partita appunto quando iniziai questo progetto che a spadratto ho cercato di convolgere più elementi possibili ancora che erano diciamo così reperibili dal punto di vista di chi diede a ognuno il proprio apporto a questo diciamo mondo che lo fece diventare di fatto l'apoteosi che ancora tutti noi condividiamo ovvero una leggenda manager anelmi fu fra quelli quindi mandai pure un link al gruppo di manaspina e mandai un link anche a Bertelli a Tempra e poi anche manager anelmi lei l'ipellino gli arrivò questo messaggio infatti mi ricordo quando già Goldrick era uscito lei poi si rapportò perché gentilmente mi confidò che aveva un messaggio non so datato da quanto tempo e lei poi per curiosità andò a cliccare perché fa se aveva visto qualche immagine di Goldrick e gli accesso la curiosità e ha capito che ero io e poi mi ha contattato prima persona ho detto guarda ti mando anche è disponibilissima ti mando anche il mio numero e ci sentiamo ma stiamo scherzando non ci posso credere ma lei o magari che si spaccia per lei c'è un profilo fake era veramente lei e guarda l'emozione mi tremava la voce in quel momento e lì poi è bellissimo perché poi lì è natamente una vera e propria amicizia che ancora perdura e lei invita anche delle chicche infatti tu ora non so manderai un video però lei mi ha mandato un video proprio per aiutarmi sempre supportarmi in questa cosa che lei ci ha visto sempre bene ci ha visto sempre come qualcosa che veramente si vuole commemorare un momento per noi ineguagliabile e mi ha mandato e mi manda ancora per esempio delle dritte delle chicche anche l'ultimo che poi vedrete infatti in questo formato deluxe che c'è quando la Rai ha il primo approccio con il mondo manga e ancora c'era questo dualismo tra chi veramente voleva confermarlo come palinzesto Rai e chi invece no e questo viene raccontato nel libro vita col fumetto di Seggio Trinchiero questa chicca proprio fresca fresca me l'ha mandata lei circa una settimana fa e lei doveva essere tra l'altro l'altro agosto doveva essere lei con noi in questo però lei è incasinatissimo ci abbiamo provato ci abbiamo provato ragazzi ce la faccio in tempo guarda ti faccio una sorpresata non è detta ancora ancora non è finita la punta questa che lei magari mi dice guarda ragazzi sono qua ci è permesso possiamo parlare non so se non accade questo lei già però nella sua bontà d'animo mi ha mandato questa chicca che io ho estrapolato e l'ho fatta mia e giustamente era giusto che la citavo come meritasse che fosse già nella vecchia edizione ma non l'ho fatta perché non c'è stato un modo perché già era partito prima del progetto ed è qua c'è il racconto proprio suo con il libro eccetera altra citazione di Rosa l'ho fatta anche parlavamo di alti pezzi a 90 ahimè saluto il compiatto a Bertelli che ha fatto questo tutto scherzo qualche un mese fa circa che è umano scomparso sì era giusto doveroso farlo anche questo perché lui è entrato nel DNA lui come paroliere le canzoni di ci trasformo razionistilo oppure tutto questo ci rimarrà per sempre nel nostro DNA nella stessa e era giusto che io lo ringraziassi per quello che è rappresentato per tutti noi non soltanto per Goldrick ma tutto il mondo anime per la maggior parte che noi conosciamo tra appunto un po' a Bertelli un po' ovviamente ha detto Mariano se la sono giocata tutte e due ha detto Mariano anche lui scomparso un anno fa abbiamo giusto ricordato nel gruppo allora ecco sì infatti allora Francesco che faccio la condivido io quella clip faccio io sì purtroppo sono riuscito a scaricare i file tranquillo allora Emanuele hai citato la mitica Fatina Maria Giovanna Elmi allora andiamoci a vedere il pezzo l'annuncio televisivo più importante almeno per noi nerd l'annuncio televisivo più importante della storia allora vediamo se riesco a condividere lo faccio il Francesco Gimignani vediamo se non l'avete capito gli UFO robot sono cartoni animati giapponesi certo che l'avete capito comunque dei cartoni animati giapponesi si sa molto poco e si inventa anche molto noi per la verità sappiamo pochissimo però tutte cose vere per esempio sappiamo che i cartoni animati giapponesi sono nati nel 1924 il primo disegnatore si chiama Ofugi e per realizzare questi cartoni animati ad opera della carta leggera colorata che si chiama in giapponese Yochigani pensate che Ofugi fu il primo a realizzare il pinocchio il cartone animato di pinocchio naturalmente era un pinocchio giapponese di quelli con gli occhi così a mandorla e la fatina era in realtà una geisha cioè una damina giapponese mentre il pescatore verde era un samurai cioè un guerriero ecco a questa loro tecnica tradizionale naturalmente i giapponesi hanno aggiunto anche la magia del loro paese e la vera e propria tradizione inoltre non si sono mica contentati soltanto della carta colorata no hanno voluto adoperare anche le ombre cinesi già ma allora ragazzi i cinesi avranno adoperato le ombre giapponesi o no boh allora allora questo che avete appena visto è una super chicca ragazzi perché finora in rete neanche straculte caro Emanuele neanche straculte nella puntata recente questa questa che avete appena visto è l'annuncio completo di buonasera con il 4 aprile 1978 allora io devo ringraziare il reparto Rai dove faccio servizio devo ringraziare il Rai Salario 1 perché mi ha messo a disposizione questo filmato e come l'avete visto è il filmato pulito vabbè io ci ho aggiunto chiaramente la mia icona e la scritta sotto ma il filmato sotto proviene esattamente dal master originale quindi grazie agli amici della Rai che mi hanno dato la possibilità di farvi vedere l'annuncio nella sua competenza nessuno forse non lo vediamo da 43 anni ragazzi veramente veramente sono emozionato nell'avervelo mostrato quindi grazie questo è un modo un modo no Emanuele per omaggiare la nostra la nostra signora Elmi no? assolutamente ma in caso gliela posso mandare lei penso forse ce la darà la sua copia persona ma gliela posso mandare poi poi ci contattiamo in privato ci penso io ovviamente anche a voi amici non vi preoccupate non vi preoccupate questa era l'annuncio di una trasmissione che è quella che appunto ha dato il via a Atlas Sufo Robo se voi siete d'accordo io condivido anche la sigla di quella trasmissione una sigla che appunto era un contenitore era un programma contenitore un attimo solo che come al solito non riesco a fare il Gimignani allora ma guarda mi sento in colpa ma purtroppo allora ecco vado vado bye bye ciao e buonasera è un po che non ci vediamo ecco avete visto insomma no è stata anche questa è stata una clip abbastanza emozionante no ragazzi perché questa questa era sempre presa dal dal master originale gentilmente donato mi dalla rai questa era la sigla di buonasera con che era un programma contenitore che ha avuto già delle precedenti edizioni che poi è stato presentato da dei nuovi lussi perché se facciamo renato rachel ecco la nostra maria giovanna elmi poi nelle repliche successive di atas su forbo facciamo i nomi del quartetto cetra di peppino de filippo cioè ragazzi goldrick è stato presentato veramente da fior di nomi importanti di quell'epoca quindi non è non è uno scherzo no no ragazzi no infatti è stato veramente per me c'è per tutti quanti sicuramente è stato uno spartiacque tra quello che significava la tv dei ragazzi è quello che poi l'abbiamo vissuto in prima persona infatti nel fumetto come tutti noi concordi penso in questa tesi siamo stati catapultati proprio in un mondo psichedelico dove non c'era più il politichese corretto comunque era tutto un racconto nel racconto poi c'era anche una sottotrama si aspettava sempre il fine ma c'era prima nella parte sofferta vissuto chiaramente era come una sorta di soppopera in versione tascabile cartone animato per un mondo bimbo che non è poi soltanto mondo bimbo ma anche il mondo degli adulti che venivano poi catturati da da questa realtà non dimmi lì infatti finendo poi i robottoni anche i vari candy candy pelin e più ne ha piena metta questi erano delle soppopera vero e proprio che avevano la pantomima di cartone animato ma di fatto avevano le storie con una trama con una storia sofferta con poi un riscatto soggettivo del personaggio del protagonista quindi tutto questo ovviamente poi è fatto archetipo anche la nostra forma mentisi per i futuri perché ci sono tanti altri fumettisti scelggiatori registi che perpetuano questa esperienza anche nei loro film nel loro mondo professionale dichiaro tranquillamente quindi per me è stato veramente uno spartiacque tra un mondo bimbo per come si definiva la realtà di essere bimbo nel rapportarsi con il tubo catodico è quello che poi a valanga abbiamo vissuto prima appunto viene anche contemplato nel fumetto soltanto mamma rai ma poi c'è stata poche cose nei vari canali privati perché non ci ascoltiamo che prima di iniziare a vendere pentole o tappeti tutti i vari canali privati non soltanto i colossi come il corso di film che poi diventerà media ma anche i vari teleodion 5 stelle super six e più in appena meta sono appunto figli del mondo anime giapponese che hanno fatto soldi a parade per poter campare e emanciparsi nella tv nazionale quindi questo è sottinteso come appunto è stato percepito questo cambiamento soltanto a livello familiare ma anche a livello aziendale ognuno appunto può raccontare la sua storia la propria esperienza come imprenditori i vari bellusconi cecchigori ognuno ha vissuto questo spartiacque tra il mondo tv come era prima e come poi diventato grazie anche al mondo mamma che ha spianato questo svolto guarda io volevo sottolineare una cosa essendo del 77 io quindi non ho visto la prima messa in onda ma vedi io ho notato una cosa io mi ha fatto sorridere quella sigla del contenitore perché perché se emanuele ha detto una parola no ha detto si è stati catapultati in un mondo psichedelico hai visto come c'era il distacco da come vedevano gli adulti il mondo dei bambini hai visto che sigla dolce cucciosa tutta un po sai per benista e bonista poi gli infilavi un robottone giapponese che spaccava faceva diciamo mostri invasori quindi capisci che si passava da una generazione fiabesca a una generazione di avventura quindi ecco perché forse c'è stato anche quell'attacco un po mediatico da parte del parlamento da parte dei gestori contro contro poi i cartoni giapponesi ecco perché vedi non si era preparati non si era pronti c'è stato proprio questo questo squarcio no tra quella che era diciamo le la l'educazione civica pre manga e anime a quella dopo quindi arrivare l'importo ne ho parlato ampiamente anche nel fumetto questa parte anche la marcia di imola e tra l'altro poi loro diciamo hanno riveduto e corretto i loro punti di vista anche in quel professore che il nome però mi manca che viene citato nel racconto che era figlio che era papà di due giamelle fu lui diciamo il fautore di quello che smosse come polemica che e poi purtroppo il colpo di grazia l'ha dato sicuramente poi ahimè salutiamo all'anima del fanciullino morto in pieno ma zingazzetta come si chiama l'ho pure raccontato quello che è morto al fredino rampi al fredino sì quello che ho dato il colpo di grazia definitivo per il mondo bigotto nazionale che voleva già fare i conti in anteprima con goldrick ma sicuramente però poi con essendo del dopo anche queste persone hanno capito che di fatto era tutta una realtà da scoprire e metabolizzare perché progressivamente prima appunto il mondo della tv ripeto con queste sicureculciose poi hanno capito che non c'entrava nulla e poi sicuramente tutte le famiglie un po' parbenista che la fin fine non facevano altro che la figura dei loro nonni quando magari loro li rilevano dentro li ripichiamo per capelloni per quelli che andavano presso al birte eccetera eccetera di fatto anche noi abbiamo avuto la stessa esperienza con il nostro mondo nerd quindi ogni uno poi è una ruota quella vita magari anch'io magari posso comunque sia scusami i cartoni giapponesi sono diventati iconici negli anni 80 non solo perché piacevano i ragazzini io dico che in un certo senso piacevano un po' a tutti anche i grandi tant'è che ci sono più riferimenti ai cartoni nei film anni 80 70 vuoi un carlo verdone che ha la maglietta di mimmo no con il grande mazzini pure oppure abbiamo citazioni che ha fatto bud spencer allora tutti quanti fanno ninetto davoli tutti quanti fanno riferimenti oggi tu prendi un film comico quello che sia italiano ma pochi fanno riferimento a quelli che sono i cartoni del tempo moderno ok per poi perché ce ne sono così tanti vuoi anche perché io penso che la generazione adulta di oggi sia ancora troppo legata a quelli vecchi quindi non non si fa mai un riferimento magari ci sono più riferimenti a quelli storici ma non a quelli nuovi quindi ecco secondo me sono diventati proprio un'icona negli anni 80 i cartoni che sono arrivati in italia nel fine anni 70 prima di tanti pezzi a 90 ognuno nel proprio settore appartenenza soltanto nel mondo quindi delle arti grafiche ma anche quindi della musica abbiamo citato poc'anzi a bertelli come paroliere tempra per gli arrangimenti musicali ma la spina è icona l'ho confermato lo stesso ma la spina che veniva fermato da adulti non da bambini ma la spina ha confermato addirittura che un suo amico medico durante un atto sessuale si lanciava dicendo bravissimo bravissimo quindi vedi sono veramente diventati un cult sono entrati proprio nel tessuto sociale ragazzi è entrato proprio nell'epidermite della vita di tutti noi della vita di tutti i giorni soprattutto della nostra generazione e manuele ti volevo fare una domanda per come tu conosci e hai conosciuto maria giovanna elmi secondo te lei come diciamo tutti quelli che facevano la trasmissione il rai di buonasera con secondo te erano consapevoli che stavano presentando una cosa che avrebbe fatto epoca secondo te secondo me no per come la cosa in sottogamba perché ripeto era un mondo nuovo che fu anche in modo così diciamo così arruffato preso subito al volo addirittura raccontava ma la spina che non c'era sincronia tra il passaggio audio e anche a volte faceva una cosa spezzona di tutto lui lavorava solitario e poi gli altri facevano magari da corale cioè non c'era già un'organizzazione strutturale professionale con la p maiuscolo come vorremmo dire come oggi veniva visto appunto come un qualcosa inizialmente per bambini poi l'esploi che c'è un cartemato di bomba per me vale tanto quanto poi un rivista è corretto da parte poi della bandai quando hanno fatto poi la versione di visual scusa di visual della riedizione quindi alla fin in fine dico tutto questo ha creato veramente un'attimosfera che ancora oggi io ci penso dico ma era veramente vivevo veramente tra le move tra il mondo spaziale e mi ricordo addirittura che ti arrivavano cosa che mai l'invito per andare al cinema a scuola all'asilo e poi ad inventare di andare a vedere i primi movie di Goldrick cioè queste cose veramente signori non ce la possiamo sognare adesso ma la che vada un National Geographic un album di figurine che riesce a passare con la pandemia ma ancora può passare più un rappresentante di film di libri ne so qualcosa perché ahimè dovevo io canalizzare l'ultimo fumetto ti raccontavo la prova non fa niente a nessuna scuola in tutt'altro settore di conseguenza quindi mi rendo conto che è stata una leggenda che è stata pian piano metabolizzata da chi ancora inconsapevole stava faceva parte della leggenda o che è fatto da utente nella leggenda nella Giovanna Emmi secondo me lei si è stata conto poi nel tempo di diventare una leggenda anche per noi nerd sicuramente lei già è una leggenda di suo come un personaggio pubblico certo però lei secondo me nel tempo ha realizzato che è diventata una leggenda in tal senso per noi a 40 anni di distanza e grazie perché grazie a questi cimei a queste persone veramente che per me sono immortali immaginari io sono sicuro che è sempre un cordone direttamente con un qualcosa che ci è rimasto soltanto legato nelle nostre sinassi ma poi visivamente parlando poc'anzi avete detto attorno a noi non è più così il mondo bimbo cartonimato è tornato ad essere allegato mondo bimbo cartonimato il mondo degli adulti mondo degli adulti invece era bello quando ripeto un mazinga un goldrex anche un candy candy per parlare anche di bottoni si fermava la famiglia intera a guardare gli occhi di sera sicuramente era un qualcosa di diverso ripeto era una sua popola camuffata da cartone animato è vero parole sante no perché io mi ricordo papà a buonanima non si perdeva la puntata di alas froppolo la vedeva con me ci mettevamo in televisione a vedere la puntata insieme in televisione quindi veramente parole sante è vero ragazzi io non mi dimenticherò mai quando siamo letto al cinema io mi avevo fatto vedere mazingo contro godre che mi ricordo era il cinema casteggio e adesso non c'è più quel cinema lì non me lo dimenticherò mai quel giorno lì sono quelle cose che rimangono veramente dentro ragazzi veramente però hanno fatto non solo in concomitante tra quasi qualche mese dopo o qualche anno dopo anni 80 mi ricordo un natale invece una versione bomba ovviamente mazica come voto perfettamente meraviglioso sì perché ci sono due edizioni la la versione quella è diciamo estesa chiamiamo così di enrico bomba che hai citato e più invece la versione quella appunto medio metraggio che dura circa mezz'ora che poi è la versione che vediamo anche attualmente che è stata poi ridoppiata rifatta dalla yamato vita eccetera eccetera una domanda che vi rivolgo a tutti ragazzi non solo al nostro emanuele secondo voi secondo voi a tra su forbo è diventato così importante così che è rimasto nella nostra memoria perché è a tra su forbo secondo voi se ci fosse stato qualsiasi altro cartone sarebbe successo la stessa cosa qui c'è questa esplosione di successo secondo voi cioè se era per esempio se era se l'italia avesse eseguito l'ordine cronologico il nacaiano ovvero mazinga z fosse stato mazinga z al posto di goldrick sarebbe successo la stessa cosa come successo chi dispone prima vai vai prima tu che sei l'ospite io sono dalla serie il primo amore non si scorda mai quindi io penso che molto probabilmente sarebbe stata la stessa cosa perché perché lo spessore di ogni elemento che abbiamo citato dal doppiaggio dalle dalle sigle tutto quello che ha fatto la cornice a mandare avanti questo esplosione mediatico sicuramente si sarebbe fatta copia in colla anche per altre realtà prima o dopo gold e quindi poteva essere un devime poteva essere un mazinga z poteva essere un getta robò perché appunto la corposità l'adeva proprio l'elemento che fu affidato nel caratterizzare al meglio questo questo questa realtà ripeto la voce ma la spina gli arrangiamenti sia come parolieri che come arrangiamenti a bertelli rispettivamente al tempo e vive scorrendo ovviamente la fatina faceva sempre la sua parte quindi è normale che faceva un bigiù io penso così ok grazie e anche per me secondo me se fosse stato mazinga z il primo che veniva in italia secondo me adesso si parlerebbe più mazinga z il primo che si è arrivato in italia quindi sarebbe stato più centrato su lui però io non lo so forse perché siamo amanti di goldregg bisogna vedere poi però quando usciva goldregg se poi mazinga z era sempre messo come il migliore o poi il goldregg è più bello capito questo dal punto capito a prescindere ragazzi goldregg a prescindere è un grandissimo animo e robotico apposta per fatto questa domanda proprio perché goldregg perché è goldregg o perché è semplicemente stato il primo era questo bravissimo fabbio fatti proprio questo dal punto che io posso fare anche un paragone allora dicono goldregg goldregg però come abbiamo visto in tante puntate che mi hanno fatto qual è quello uno forse uno tra i più primi amati è gig e manuele non è vero è vero in tutti gli altri nostri amici ospiti il più gettorato in assoluto è gig robot acciaio ma lo stesso malaspina l'ha detto malaspina ok actarus per lui in tanti fans sono amanti di malaspina per i roshi shiba non per actarus è vero posso dire sì penso anch'io la stessa cosa perché comunque gig rispecchia un po quel contenzioso quel dualismo che può vivere dentro di te tra il ragazzo per bene e magari il rivolgisci a volte un po male scontrarsi contro la generazione che ti anticipa che può essere il papà la mamma eccetera quindi ti rivedi un po anche in questa figura e poi lo vedi è molto più vicino da diciamo è realmente da porta accanto già actarus o jukfrid che sia lo vedi un po sul piedistallo da principe che era lui insomma era molto più legato era principe più ammaspinato potete dire più da sangue blu mentre i roshi lo vedi veramente da il pilota di formula 1 che si sporca le mani che si litiga a volta si mette a tutto a tutto pure con una bambina di sei anni che era mai umi e quindi già anche questo secondo me ha fatto breccia in noi da ragazzi bambini di quel periodo sicuramente concordo in pieno con la tesi dell'amico allora io ti rispondo in modo più che altro logico per ricordi di logica e allacciandomi poi a sempre una frase che ha detto emanuele cioè il primo amore non si scorda mai ok quindi secondo me se fosse arrivato mazinga z in italia prima di goldrick sarebbe stato sicuramente il più amato più amato di goldrick perché era il primo tant'è che vi dico questo questa cosa che non è segreta a nessuno in spagna che è arrivato prima mazinga z è venerato è avvenuto questo in giappone il primo robot nagaiano e mazinga z se oggi vai li presenti grandizer o li presenti cotec su gig si lo ricordano ma non è che ci sia questa passione invece per quanto riguarda sia giappone ma addirittura in arabia ragazzi in arabia è arrivato prima goldrick quindi goldrick è stato come in italia per noi giusto quindi se in arabia fosse arrivato prima mazinga z o sarebbe arrivato gig per dire sarebbe stato quello il loro primo idolo e sicuramente riferimento quindi questa penso che sia la logica migliore secondo me in italia se se sarebbe arrivato tutto in ordine cronologico sicuramente oggi qui stavamo a parlare e diciamo così omaggiare mazinga z e non goldrick anche se devo dire devo dire che goldrick ha il suo fascino per il discorso che non è solo un robot mecca ma la sua astronave quindi la sua storia è particolare vedi gig no abbiamo detto che in italia però è più amato gig perché ma perché ero scel primo cyborg ragazzi era il primo penso tra i personaggi che non è che si mette si infilava una tuta quindi era quella cosa diversa è come quando si è visto sai l'uomo da un milione di dollari no o ti posso dire era una cosa straordinaria una cosa fantastica quindi si differenziava va bene actor sui del principe il robot era bellissimo ma i roshi il fatto che tu potessi unire i pugni no quindi anche la gestualità nel senso che actor si lanciava quindi faceva un gesto non è che lo potevi imitare tanto invece con i con i roshi i pugni c'era una gestualità c'era il famoso ciondolo maraviglioso quanto l'abbiamo emulato anche bravissimo quindi il fatto di avere un ciondolo ragazzi magari noi non sappiamo quanti ragazzini si siano disegnati la testa sul cartoncino l'abbiano io non lo so bravissimo disegnava i guanti sulle mani ragazzi era più facilmente emulabile voglio dire ok con la bicicletta potevi imitare un po la moto cioè senza fare il volo però eh senza fare il volo sulla ruota e lo posso dire già che con un classico paio di guanti da lavoro potevi già farlo esatto esatto e io lo facevo e io lo facevo è anche vero che l'enfasi che ci mettevamo alla spina è stato particolare io penso che parecchio affetto che si ha verso questi cartoni è legato all'immagine al disegno quindi a quello che era il cartone ma soprattutto alla voce a la voce dei personaggi sia buoni che cattivi erano molto particolari fortunatamente in italia abbiamo vantato dei doppiatori illustrissimi e di una prima al mondo ragazzi veramente delle voci spettacolari ragazzi irripetibili penso io penso che ci sia stato un connubio non volendo c'è il bello che è stato involontario c'è stato un connubio tra immagini voci eh slogan come si come un'attimiera setta urlavano le loro armi quindi ma la stessa cosa è anche successa per il daitan per il grane mazinga cioè loro con quelle quelle enfasi che ci mettevano e tutto e hanno hanno creato una magia ok si dice anche che in italia lo giudicano come i doppiatori migliori al mondo lo dicono è che i doppiatori italiani dicono che siano i migliori che siano al mondo è la scuola migliore del mondo certo dicevi valore una cosa che volevo aggiungere tu Goldrick per esempio che potremmo spezzare la lancia sul fatto levando il discorso che con quello che la mente in prima non si scorda mai che può anche darsi che Goldrick ha assimilato la moda di quel periodo sullo spaziale perché non ci scordiamo che era recente lo sbarco sulla luna c'era la moda ancora prima di Goldrick già c'era la moda con anche l'altra serie tv UFO se non ricordo come no come no faccio 1999 tutti diciamo film che hanno fatto anche da con primario da appendici o con comitanze o poco poco prima di Goldrick quindi anche questo sicuramente avrà influenzato molto l'amore verso Goldrick perché era un robottone che comunque ne eravate nel mondo dello spaziale tanto io qua ne approfitto non voluto ora guarda caso proprio l'ultima questa è l'ultima pagina che ho messo proprio oggi stamattina mi sono proprio involutamente imbattuto in un video di Stoliciano che stavolta prende però spunto da un video datato l'anno scorso delle Iene su la vericità o meno degli avvistamenti spaziali e questo per me cadeva a pennello per poter enfatizzare una pagina che io già quando sul finale volevo chiudere in bellezza il racconto di 40 attività di UFO che raccontavo le similitudini tra i vari avvistamenti antichi dei UFO in epoca anche prefascista, fascista eccetera quindi non solo quindi in America in area 51 ma anche qua in Italia è quello che a tuttora ancora si vive o si cede o non si vuole credere eccetera infatti ho messo prima questa pagina e poi ho messo il link di History Channel la pagina è questa di qua dove esattamente si vede proprio Ah bella, la comparazione La comparazione tra per esempio l'astronave di Grande Vega e questa specie di astronave che fu avvistata negli anni 40 e questo giustamente sarebbe l'area supersonico Il Concorde, come no? Però dico, ci sono sempre delle comparazioni con il mondo reale poi questo è il famoso telegramma che fu trovato quanto pare un reperto proprio di un UFO in territorio nazionale e fu mandato proprio a Mussolini Questa invece è una comparazione del secondo veicolo di Alcol con un triangolo semovente nello spazio che si percepisce che è anche un UFO e poi il mitico di Alcol con questo talto è stato poi un po' diciamo demolita questa tesi perché poi si pensa che sia uno sperimento fatto dai nazisti i primi veivoli a modi disco volante che avevano sperimentati dai nazisti comunque dico per dire quindi alla fin fine anche questa è stata l'onda mediatica che ha avvallato di gran lunga il fenomeno di Alcol Ufo Robo perché c'era già questa aria tra gli anni fine da 69 fino all'inizio degli anni 80 di questa moda nello spazio che avrà sicuramente spiegato la strada a Goldrich comunque possiamo dire che Gonagai prima di tutto non lasciava nulla al caso nel senso che i nemici della serie di Mazinga erano molto presi dalla storia greca e romana era la storia invece di un'imperatrice veramente vissuta nell'antichità quindi Mico quando sicuramente si è ispirato a una serie spaziale quale quella di Goldrich di Grandizer sicuramente ha attinto a delle fonti dell'epoca vere quindi sulla forma sigariforme comunque ragazzi c'è poco da dire inutile essere così arroganti da pensare di essere da soli nell'universo quindi già questa è la mia veduta prima di tutto e secondo di tutto i governi del mondo hanno dovuto per una legge almeno diciamo almeno in America Freedom of Information Act di desecretare tantissimo materiale dell'FBI e dell'intelligence sono stati costretti a desecretare dei documenti e come si è visto ci sono documenti militari, civili e tutto che parlano di UFO e loro si sono presi la briga di spendere milioni per studiare e fare ricerca su questi eventi se fosse stato, ah vabbè sono stronzate il governo non ci va a investire dei soldi ok? è in rete c'è veramente tanto non parliamo di quelle fake ma c'è roba proprio con tanto di timbri del governo messo top secret e presi perché sono disponibili nel sito dell'FBI nel sito dell'Americano sono file federali ragazzi bravissimi quindi quello che usciva perché quello che ci ha mostrato Emanuele le varie foto le comparazioni quello è uno 0,001% della roba che usciva pubblicamente perché il resto non veniva assolutamente diffuso e se qualcuno si permetteva a farlo uscire veniva subito toccato quindi ovviamente Gonagai che non lasciava nulla al caso come abbiamo detto prima ha cercato sicuramente le sue fonti come ha fatto per le altre sue opere di prendere quanto più materiale che dava una veridicità per creare una storia ok per creare un qualcosa che fosse credibile anche agli occhi di un bambino ma tanto anche agli occhi di un adulto tant'è che i cartoni giapponesi noi qua li vediamo per bambini ma in Giappone invece i cartoni sono per una fascia di pubblico medio alta non basso media è giusto mi confermi Emanuele? è una cosa seria ma anche i manga che tutto parte dal fumetto ci devono mettere ci sono i settori quelli più diciamo così più anche tabù dall'omosessualità 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 anche una cosa cretina che per noi per essere cretina può essere una cosa di tutina lì ci fanno una storia per esempio non è cretina ma è una cosa fantastica romantica giusto adesso vi do proprio una confidenza prima di collegarmi con voi vi ho visto un cartonato bellissimo di Miyazaki con mia moglie ho il titolo mi chiedete troppo non mi ricordo più il titolo perché è di quella cerchia di collana di Miyazaki che stavo facendo ora su Netflix pubblicità scusate alcune basta il nome Miyazaki guarda e ti racconta di una bambina che ti racconta la storia prima il suo percorso scolastico e poi che lei se vi ricordate chi è mi dite il titolo e poi si vede lei che va poi a fare l'esperienza nel mondo agricolo e nel frattempo ha quei flashback ancora di bambina scolastica e poi lì fa un outing con se stessa capisce che il suo vero mondo è quello semplice non quello cittadino e poi si mette con un contadino questo già fa capire come ogni percorso di vita dell'uomo medio giapponese è stato trattato attraverso i manga e poi è stato anche infallizzato attraverso i lungo e i mediometraggi e serie tv animate cosa che invece qua magari sembrava una cosa assurda e ha preso campo grazie ai vari mostri come appunto Osamo Tezuka Gonagai Miyazagi e Pina Pina Metta fino ad aggiungere giorni nostri quindi io concordo in pieno questa tesi rendetevi conto amici che ci state guardando quanti spunti regala Atlas Uforobo e quindi grazie anche alle tue illustrazioni caro Emanuele appunto che ci ha fatto vedere questa comparazione tra l'immagine di Coldrick e gli UFO guardate quanti spunti no? ecco ci ha dato spunto a noi per una discussione veramente molto molto interessante allora io direi se voi siete d'accordo diamo un attimo una piccola nota audio video tanto per per rimanere in tema insomma ci andiamo a vedere una cosa a noi molto molto cara vediamo se ci riesco stavolta con l'audio completo un attimo solo a noi un attimo solo Grazie a tutti. Allora ragazzi, l'avremmo vista miliardi di volte, l'avremmo ascoltata miliardi di volte, però io non so voi, ma ogni volta, ogni miliardesima volta io c'ho la pelle toca ragazzi. Giaffi, sai che potere ha una sigla simile? Questa è un'istantanea di quel momento in cui si stava davanti alla tv e ti fa ricordare immagini, odori, profumi, persone che non ci sono più. Io mi ricordo in quei pomeriggini, addirittura i vicini di casa, la vecchietta che stava di fronte, mia madre mi diceva abbassa il volume perché noi abitavamo in un centro storico dove veramente se ti allungavi la mano davi la mano col dirimpettaio. Quindi io ho quell'immagine lì come una diapositiva, come se fosse veramente una foto polaroid, no? Io ho un'immagine così, pensavo che eri concluso, perdonami. No, no, vai, 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 vai. Ho un'immagine speculare alla tua, anche come sensazioni, con col del sottoscrivo, ma in bianco e nero, perché io... No, io l'ho vista colori. In bianco e nero, signori, io l'ho vista in bianco, io ho cominciato a innamorare in tutti i colori, grazie alle prime griffe di UFO Robo della standa, vai alla standa e vai a te a comprare i giocattoli a Natale, oppure i primi posti della Elac, grazie a questi posti che ho raccontato pure nel fumetto, io conoscevo finalmente i colori psichiatrici del mondo di UFO Robo, quindi per dire, anche i sapori, il profumo della gomma da masticare, è durissimo da masticare, ma quell'odore, insomma, me lo sento ancora in bocca appena sento la sigla, fatica via. Oppure anche, mi ha affascinato Tandini quando si è vestito, il primo cosplayer per me è lui, che si è vestito appunto da... Actalus per cantare Goldrick, infatti l'ho citato anche nella copertina nuova, perché? Perché per me era anche questo un fascino vedere un cantante adulto che ti cantava la canzone di UFO Robo e addirittura veniva poi invitato a Disco Ring e in tutto questo poi anche su Superclassifica Show raggiunge le vette e diventa, non so, per quanti mesi alla top come Disco Music, quindi anche questo per me... No, no, Disco Toro ragazzi, adesso non mi ricordo se era Shooting Star o la seconda sigla di chiusura, diventò Disco Toro al punto che la RCA non credeva ai propri occhi ragazzi, no, no, è veramente storia questa, quindi no, hai detto una saccosanta verità caro Emanuele, no ma guarda ragazzi, veramente sentire questa sigla è fonte sempre di emozione. Emanuele, quando, proprio nell'arco della tua vita, hai scoperto che Atlas, UFO Robo, non faceva parte del vero nome del cartone, perché io l'ho scoperto con Facebook, ti sono sincero, io l'ho scoperto con Facebook. La stessa cosa, la stessa, ma anche questa, ancora questa leggenda che... In modo cronologico ti dico la mia esperienza, come l'ho scoperto, allora io innanzitutto negli anni 90, quando iniziavo ad avvicinarmi di nuovo al mondo nerd e facevo un po' un'introspezione, tutto quello che ci ha affascinato e che ci ha catapultato quindi nel mondo giapponese come robottone, eccetera, cominciavo quindi a percepire le prime leggende da sdoganare da quello che realmente era poi veramente in realtà, per esempio non c'entra Goldick, ma per esempio Giappe e Jig, con la leggenda quella di Piero Pelù che cantava la canzone di Jig, che non c'entrava niente. C'entrava niente. C'entrava focus. Idem per conto riguarda Atlas, UFO Robo, che si diceva fino alla fine che in realtà era il disco volante Atlas che faceva parte proprio, proprio parte integrale della dita scale che era il titolo originario, oppure Atlas come appunto l'Atlante, insomma, il va-de-me come che dalla Francia arrivò in Italia per indicare un po' la BC di cosa si trattava. Quindi ancora oggi c'è questa mezza leggenda tra realtà e leggenda, non si capisce bene quanto è il titolo. Però sì, l'ho scoperta anch'io in età tardiva e poi ho scoperto addirittura che di fatto il nome non era Goldick, ma era Grandiser oppure la versione tedesca, aiutatemi qual era, che ha un nome diverso. No, no, vabbè, il francese è Goldorak. Goldorak, esatto, ok, Goldorak. Però anche i tedeschi credo l'abbiano chiamato Goldorak, hanno preso, hanno mutuato la parola francese. Beh, ma Goldick credo che perché fu l'adattamento appunto italiano, mi confermate, no, Emanuele? Mi sa che gli arabi hanno lasciato quell'originale. Facendo un riferimento alle stelle, quindi è stato sempre un'arrangiare, un'inventare. Ecco, l'inventiva italiana, dove sta? Se noi eravamo dei grandi appuntisti artistici nel Rinascimento, ora faccio una calzetta, magari un po' calzetta o un po' calzetta, ma di fatto non è calza sempre, perché finché si parla di arte, può essere arte di alto livello come la cappella di Sistina, può essere arte anche di inventare un nome in cinque secondi per un qualcosa che deve essere fatto in tempo zero per i bambini, perché i tempi di affari in Sesto Rai erano allucinanti. Ora parliamo di realtà psichedelica, ma anche della realtà psichedelica anche dal punto di vista dei tempi da rispettare all'interno del mondo Rai, da poter subito proiettare il cartone in TV. Questo per me è anche arte, è anche lo stesso Manaspina che ha saputo in cinque secondi inventarti questi nomi, perché prima in giapponese qui non capire di cosa si trattava, invece lui in cinque secondi ti inventa questi nomi che poi li abbiamo perpetrati nel nostro immaginario tuttora. Perché poi nelle prime puntate variavano molto, perché prima le chiamavi in un modo, poi in un altro. All'inizio, le prime puntate sono state un po' confusionali. Alla barda elettronica, diceva. Poi alla barda spazionale. Anche questo sicuramente ha fatto la sua parte, cioè l'italianità quando si ci mette da punto di vista artistico a sparatratto su ogni profilo dà poi i suoi risultati. E infatti con Goddick l'abbiamo visto. Sì, sì. Che altro dire ragazzi, cosa possiamo aggiungere? Ma comunque tutto questo che vi stiamo dicendo, lo dico agli amici che ci stanno guardando, tutto questo che vi stiamo raccontando è tutto riassunto nel libro di Emanuele Alotta. Adesso vi sto facendo vedere la prima edizione, ma la seconda ve l'ha mostrata Emanuele. Tutto questo che vi stiamo raccontando, tutte queste emozioni, questi aneddoti, sono riassunti nelle illustrazioni raccontate con il testo di Emanuele Alotta. Quindi rivivete attraverso il libro di Emanuele tutte queste emozioni, ma anche per i giovani che non hanno vissuto in prima persona questa storia, questo racconto, lo potrà vivere attraverso il libro di Emanuele. Voglio aggiungere una cosa importante, i colori fatti a mano, fatto a mano, matita, inchiostro di china e colore a pastello. Ecco, bravo, è una remulazione un po' anche del mondo vivo, anche in tal senso, potevo anche io risolvere la cosa con un po' di digitale e me ne uscivo così, facevo soltanto le immagini al computer e poi potevo buttarci giù il colore col foto. E' bello vintage così, comunque il vecchio diario scolastico ai primi anni 80, quindi ci sta, ci sta. Io avevo un quaderno di gig comunque con la stessa grafica, non era proprio presa, si vedeva che c'era roba di inchiostro, di colore, non era definito l'immagine del quaderno, era l'icona, era quella. Sì, 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 Giaffi, avevo dei quaderni dove nel posteriore c'era il testone di gig che da una parte invece c'era tipo un frame di un'immagine del cartone, ma non era tipo preso dall'immagine del cartone, si vedeva che era disegnato, il testone dietro sì, era un'immagine fatta per bene. Come no? Della pin. Il nostro Emanuele ha riprodotto esattamente questo che hai appena raccontato, cioè quello stile di quell'epoca. è aggiunta, sì, ma anche in un citazione ai vecchi fumetti tipo i vari Corriere dei Piccoli, i giornalini, i vari Toppi, ricordate Toppi, Battaglia, che loro ti facevano però più che altro i fumetti sul Risorgimento, su Garibaldi, Napoli, però di fatto era uno stile molto più artigianale e anche questo, diciamo, artigianità, ma potete cercare un po' di perpetrare in queste pagine di questi fumetti. Eh sì, eh sì. Che comunque era bello spezzava dal cartone. Guarda che se tu prendi, no, un cartone nuovo, diciamo, contemporaneo, no, e vai a prendere un album di figurine che sono prettamente i frame di quel cartone, quindi tu vai ad aprire una cosa già vista, ok? Invece era bello, prima, vedere che anche negli album di figurine e tutto, c'erano quelle, qualche figurina che era a frame, ma c'erano tante illustrazioni infatti a mano, quindi era un po' un qualcosa di inedito, qualcosa di nuovo, non avevi mai visto. Era, ecco, una cosa sicuramente più godibile da parte di ragazzini, che parliamo di ragazzini che non facevano parte dell'era digitale, quindi non avevano a disposizione tutto quel materiale che c'è oggi, perché oggi un bimbo, ok, non gli compri l'album di Peppa Pig, ma va su YouTube e trova l'ira di Dio, vai su Google Immagini, e ci sono sicuramente tante immagini di fan artist, quindi come i nostri artisti che abbiamo avuto ospiti qui, quindi c'è tanta roba, alla fine non ti stupisce quasi più nulla. Prima, se invece vedevi un disegno fatto diverso di Goldrick, di quello, di qualsiasi cartone dell'epoca, sicuramente c'era, mamma mia, ci restavi un po', ecco, ci restavi molto impressionato, ok, e poi volevo aggiungere sempre su Goldrick che è stato, penso, uno dei primi cartoni dove i personaggi avevano un nome singolo, non avevano un nome, un cognome, cioè il dottor Procton, era il dottor Procton, Actarus, poi invece siamo passati a Tetsuya Tsurugi, siamo passati a Ryo Kabuto, Okoji Kabuto, quindi Sayaka, Yumi, abbiamo avuto dei nomi e cognomi, ma all'inizio erano solo dei nomi, non avevano, ecco questo, questo discorso di Actarus, era figlio di Procton adottivo, però non c'era un cognome che riconduceva la famiglia, capite? Quindi, vedi l'evoluzione che c'è stata dal passaggio del primo agli altri. Avevano una fribrità più facile, era più facile che noi. Non riportava molti nomi giapponesi, io quello che ricordo più giapponesi di tutti, penso che sia un ragazzo che faceva parte di una puntata poi messa nel lungometraggio che era Shinichi, quello a cui promettevano i due alieni e noi, i due vegani, perché oggi dire vegani ha un altro significato, ha un altro significato, quindi c'erano diciamo così due soldati di Vega, mascherati, che promettevano a Shinichi di fargli un giro sul loro disco volante, no? E quello è, penso, uno dei pochissimi nomi giapponesi che si trovano nella serie, perché tutti gli altri li sappiamo, no? Venusia, Banta, addirittura Banta, nessuno aveva un nome giapponese, come anche i nemici, i Dargos, vedi, nessuno, in alcune puntate c'erano alcuni nomi che erano giapponesi, quello che era, sì, tra un quarto, sì, ho capito cosa vuoi dire, sì, non era poca roba, cioè, non eravamo abituati, non eravamo pronti ancora, sicuramente in Rai hanno fatto quel riferimento, però poi tutto quello che è uscito in seguito è uscito con dei nomi, cognomi giapponesi, originali, vedi Roshishiba, voglio dire, c'è, penso che sia, ecco, anche questo un bel aneddoto da collegare al nostro mitico Goldrick, penso. Infatti, nell'ultima, nell'ultima pagine c'è la scena in cui faccio come uno spartiacco immaginario, si vede la famiglia smaliziata dove ancora tutto ciò che passa mamma Rai va bene e poi la versione invece in uomo video con il televisore a Plasma si vede l'ex bimbo che ormai è adulto papà di famiglia con i bambini che si guarda la versione che sarebbe la versione che poi esce i nomi video tutta comicitù riveduta e corretta con i nomi corretti e tutto il resto. Questo appunto esatto, questo appunto per demarcare il fatto che poi siamo stati noi stessi ex bimbi che abbiamo rimpugnato il progetto perché romanticamente parlando ci aveva lasciato qualcosa dentro e volevamo ripigliarlo per petrarlo appunto dalle nuove generazioni quello che si sta facendo anche con questo progetto. Eh certo, è certo. Ragazzi, vai Fabio vai scusami vai vai Ti dico l'ultimo un'altra cosa che potrebbe essere rimasto impresso nel nostro pensiero a Goldrich quando lo vedevamo non ci siete stati anche voi come si dice innamorati dei suoni delle esplosioni delle botte delle armi delle musiche che c'erano sotto sì sì non è vero che forse era una cosa che ci faceva più piacere sentire quando lo vedevi No, ma soprattutto sicuramente quando ci abbiamo giocato qualcuno di noi ha fatto questi suoni Giaffi mi fai sentire un'esplosione o un raggio come lo facevi tu da bambino Adesso 50 anni non ci rispondiamo No, 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 vabbè Dai, 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 quando giocavo diciamo la fonetica cercavo di farla più possibile possibile al cartone animato ma anche perché appunto ha detto bene Fabio i suoni e le BGM fantastiche di sottofondo ragazzi penso che Goldrick può vantare tra le più belle BGM di sempre a tutt'oggi lui mi può confermare quando ci siamo visti quel famoso giorno per il cannolo del bar russo che ti ho messo in sottofondo una BGM di Mazinga per dire perché giustamente le BGM hanno dato anche il loro apporso non soltanto quindi con le suoni italiane ma anche le BGM giapponesi ancora questa cultura perché per esempio ho citato poc'anzi anche i Miyazaki non necessariamente parlare del mondo robottoni ma proprio in generale il mondo anime giapponese ha una cultura ben precisa anche dal punto di vista delle conne sonore innanzitutto perché il 3D sta pian piano ora avvicinandosi con ovviamente inizialmente con il Capitano Harlock qualche anno fa il Matsumoto ma fino a qualche anno fa era prettamente ancora in 2D e con la conna sonora che ti faceva sognare ti fa proprio niente ancora mi fa mi scopla la lagrimuccia sento per esempio una BGM di un anime di Miyazaki per dire anche qua ha dato il suo apporto a suo tempo la BGM di Altas Uforobot non per niente mi riferisco in alto tu lo sai guarda sinceramente mi fa un po' paura questo discorso che si dice che arriverà in computer grafica un film dedicato a Uforobot sinceramente non è che lo accoglierò tanto di buon grado ho visto comunque Mazinga Z è stato bello a livello di design di storia è stato penoso tu dici Infinity no? Mazinga Z Infinity e spero che non si allacci comunque a quel discorso là perché non è assolutamente riconducibile a quelli che sono i miei ricordi di quel meca hanno creato proprio quasi una realtà alternativa che difficilmente accetto ma questo è puramente soggettivo attenzione quindi tanti magari grideranno anche al capolavoro viati loro io voglio restare con quel rigo guarda avrei più preferito un seguito immediato tipo una seconda una terza stagione quasi di Goldrick no? per vedere un po' che fino avesse fatto una volta ritornato su Fritz avrebbero potuto creare una saga diversa con un nuovo nemico un nuovo invasore per Fritz oppure tanta roba oppure magari che la terra avrebbe mandato dei coloni ma ci sarebbe stato tanto da fare sul personaggio di Hugh Fritz evidentemente con Agai ha preferito portare più avanti una saga tipo il Getter che ha avuto un seguito secondo me come dici te Francesco il seguito di Goldrick non c'è stato il motivo perché in Giappone ha fatto non dico un flop ma non è che sia stato non è famoso come noi che c'è visto con Agai cos'è amante o il Getter o il Mazinga tu vedi solo di Ray o del Getter Robot o del Mazinga vedi solo i seguiti ma di Goldrick lui si è fermato perché ha visto forse che non è piaciuto o non ha tenuto in testa la gente in Giappone diciamo poi adesso vedendo in Italia e nel mondo che ama tutti i suoi lavori allora sta cercando di fare qualcosa di nuovo ma non ha più non ha più le idee come finire non so più neanche i tempi ragazzi perché guardiamoci chiaro 43 anni sono tanti sono veramente tanti non si può ripetere una magia pari a quella che è stata è impossibile ragazzi allora visto che abbiamo citato BGM belle cose dei suoni bella musica io direi andiamoci a vedere ad ascoltare un'altra bella un'altra bella cosa un attimo solo un'altra bella un'altra bella un'altra bella Grazie a tutti. Allora ragazzi io penso che anche qui i brividi si spregano, no ma io penso che questa è la sigla di chiusura Shooting Star che è la prima sigla di chiusura, ovvero quella appunto del 1978. Io penso che il giro di basso di Are Stavolazzi sia il miglior giro di basso della storia del mondo proprio. Io avrei avuto tanto un desiderio che purtroppo ultimamente proprio non si può più realizzare. Io avrei voluto un remix, un remake di questa sigla da parte di Daft Punk perché secondo me sarebbero stati gli unici a prendere sto giro di basso e a creare un qualcosa di vero, un qualcosa di spettacolare. Perché io ogni volta che sentivo questa qui la riuscivo ad abbinare a Around the World di Daft Punk. Eh sì, che è il loro cavallo di battaglia. Perché aveva un certo riff di basso proprio perché... Sì, molto simile, sai. Quasi ci poteva stare sotto. Vabbè, chissà se i Daft Punk si siano proprio ispirati al nostro Are Stavolazzi. Are Stavolazzi che poi... Ci può stare. Ci può stare. Che poi Are Stavolazzi, aperta parentesi. Ogni volta che lui gli viene ricordato Goldrick, lui un po' si incavola perché Are Stavolazzi, ricordiamolo, è il più grande bassista italiano della storia che ha lavorato con fior di professionisti italiani e internazionali. Quando lui viene ricordato solo per Shutistar, un po' si incavola perché diceva ragazzi ho fatto cose straordinarie in carriera ma sempre con Goldrick. Ma comunque, veramente, adesso chiusa parentesi, ci ha regalato penso veramente una delle più belle sigle di chiusura della storia. E ogni volta anche qui i brividi si spregano, no? Che dite? Abbiamo avuto anche, a proposito dei non sens, abbiamo avuto anche delle sigle che non c'entriamo niente con gli animi nostri da Lupen, da Gai King. Ma poi hanno fatto anche loro, diciamo, hanno confezionato veramente il sigle per noi che ancora è rimasto nei nostri cuori. Quindi si può anche stare che magari ci rimane, come anche Tandini a volte che ora lui fa tutt'altra cosa, quando si dice ma veramente tu, sì ma io veramente volevo fare il musicista veramente professionale, che facevo parte io di un gruppo, poi mi hanno preso così per caso, sì ma io penso che non bisogna crearsi nella propria formazione, io ci metto anche in prima persona io, cioè ci può anche stare che magari non verrò più ricordato per altre cose che farò in passato e in futuro o in passato, però magari ricorderà vagamente perché poi la gente poi nel tempo è facile dimenticare, se magari non martelli con qualcosa pure di sensazionale dalla stessa portata o leggermente inferiore. Però alla fine hai dato anche tu il tuo apporto al cuore di una persona, quindi se tu già stai facendo questo apporto morale, spirituale, che ancora ne parliamo, ripeto, a 40 anni di distanza, secondo me è entrato nella leggenda comunque, quindi non necessariamente ti devi stereotipare per diventare forza il cantante X o l'attore X o il fumettista X e non ti senti poi soddisfatto dentro. Se ti viene appunto ancora un ex bambino a piangere davanti il portone di me la spina, ci sarà un motivo, quindi penso che non dovremmo vivere di frustrazioni di magari non aver compiuto quella cosa come volevi tu, l'importante è che comunque la vita ti ha condotto a fare quella cosa, io penso anche per esempio oggi, sono qua a parlare di questo fumetto che qualche anno fa non mi sarei mai immaginato, nemmeno essere qua, direnza a voi, onore mio. No, onore nostro. Secondo me, anche questo stiamo contribuendo, chi magari ci seguirà tra qualche giorno quando tu monti la puntata, a dire ragazzi, mi avete contribuito a ricordare ancora un momento felice di me in questo momento di pandemia perché per ora le cose non vanno bene a casa mia. Dico, la dico così, la butto lì e però no, ognuno c'è la sua storia. Quindi credo che non bisogna vivere di frustrazione e bensì farsi trascinare dove il destino ti porta, c'è sempre un motivo. Guarda, non potevi concludere nel modo migliore. Allora, i ragazzi, visto che abbiamo toccato le due ore di registrazione incredibile, sono volate. Emanuele, allora io direi, in conclusione, ripetici quando sarà fruibile questa nuova edizione deluxe della tua opera, forti anniversari, l'ufo romano. Allora, se gli uomini rispondono a puntine, siamo qui anche per questo, appuntamento da dopo Pasqua in poi, inizialmente presso Pitti Edizioni, direttamente ordinabili a pittiedizioni.chioccialibro.it o nella mia piattaforma Facebook oppure nel profilo della Pitti Edizioni che risulta proprio come Emanuele Alotta oppure come Pitti Edizioni normalmente, oppure se tutto andrà per il verso giusto e ce lo auguriamo tutti, tra circa un mese reperibile come il vecchio formato nei rispettivi bookshop online, Feltinelli, Mondadori, Amazon, eccetera. Quindi negli store quelli con suoi di quelle che più conosciamo. Perfetto, quindi vi raccomando, lo ribadisco anch'io, amici che ci state vedendo, non vi perdete questa nuova edizione, anzi, magari per quelli che non hanno preso la prima edizione, a maggior ragione prendete questa edizione perché è un'edizione, l'avete vista, bello grande, un formato veramente da collezione, quindi chi è veramente appassionato di UFO, in particolare, ma comunque appassionato in generale, quest'opera di Emanuele Alotta dovete averla nella vostra collezione. E quindi io direi, amici, se siete d'accordo, congetiamo il nostro Emanuele Alotta. Grazie Emanuele. Grazie amici. Grazie. Grazie. Grazie, grazie davvero. Saluto. E' un po' di Alcolzino, è che la forza di crescere sia con noi. Sempre, sempre. Salutiamo pure Sergio, già che ci siamo. Grande Sergio, grande amico. Saluto i miei consueti compagni di viaggio, il mio dottor Sautome, Fabio Vanzo. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao a te. Ciao Fabio. Grandi. E il mio Actarus Prime, Mazinga Z, che oggi non ha fatto, Francesco Gimignano. Mi dispiace. L'ho fatto io, però saluto la scherza ovviamente, grande Francesco Gimignano. In cabina di pilotaggio purtroppo oggi non sono servito, mi dispiace. Oggi l'ho fatto io, ma... È in importanza della tua presenza e poi... Guarda, Giampi, sei stato impeccabile. No, ma che impeccabile, sei stato pessimo, perché neanche l'altro... Grande, padrone, diciamo, di casa, come sempre. Grazie a voi, se riesco a fare, spero, riusciamo a fare queste puntate piacevoli, spero, per tutti. Allora, in conclusione, io direi di salutare di nuovo e dedicare questa puntata al nostro Davide Baldo. Un grande abbraccio, un grande abbraccio forte. Grazie un applauso al nostro Davide, assolutamente. Ciao Davide. L'appuntamento è la nuova puntata di Raccontaci di Te, grazie per la visione. Ciao a tutti e un grandissimo abbraccio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti